Ringraziare l'associazione Muovi Rivarolo per questa iniziativa, che è la seconda iniziativa legata alla violenza di genere, un evento assai importante, è molto partecipato, si è svolto alcuni giorni fa e questa seconda iniziativa è un momento importante perché è l'occasione per lasciare un segno, un segno che tutti i cittadini, in modo particolare i cittadini che, penso, tutti i rivarolesi durante l'anno hanno l'occasione di venire all'ufficio postale poi in una posizione in cui è anche visibile dalla strada. Questa panchina, questa panchina rossa appunto che Muovi Rivarolo vuole donare alla città, i cittadini rivarolesi, sarà il simbolo di questa violenza. Alla fine Allora adesso Carmela farà due parole perché mentre noi la solleveremo, Carmela farà un suo presente per questa giornata. Allora, buongiorno a tutti, i ringraziamenti sono inutili da fare, mi hanno fatto loro due. Ringrazio però in particolar modo, ci tengo a dirlo, ad Alberto come primo cittadino di questa nostra rivarolo che ci ha concesso e permesso di fare tutto ciò. Tutto il resto va bene. Però questo qua, grazie a Muovi Rivarolo, è stata donata proprio per, non sono arrabbiata, è un simbolo proprio contro la violenza alle donne. Perché comunque noi donne siamo quelle che abbiamo donato la vita a tutti voi, non penso a me, certo. E quindi un minimo di rispetto e di non violenza, basta questa violenza, basta.